E' la prima cosa a cui pensi, è l'ultimo pensiero che attraversa la mente, vivi, non vivi, ci pensi, ti devi fare a tutti i costi, non c'è limite, non c'è limite a quello che sei disposto a fare, non c'è morale, non c'è intelletto, la droga ti scioglie l'anima, alza un muro tra te e gli altri e ne alza un altro, il tuo.